Stiamo notando una desertificazione del centro, c'è ogni volta meno gente che cammina soprattutto nelle ore serali. Io mi sono permessa di scrivere una lettera al sindaco e non ho avuto risposta né dal sindaco né dal vice sindaco né da nessuno per lui. Mi sento delusa perché, guardi, questo è un provvedimento veramente penalizzante. Pensi che siamo l'unica città, ma nemmeno a Roma c'è un'ordinanza così restrittiva. Sono le voci di residenti e commercianti del centro storico di Padova, dove da luglio la zona traffico limitato è stata prolungata a titolo sperimentale dal comune fino alle 23.30, una decisione fortemente contestata con una raccolta firme protocollata in comune. Dobbiamo protocollare delle firme. Mille firme che rappresentano mille famiglie, quindi almeno 3.000 persone, ci hanno detto i promotori della petizione, che chiedono di essere ricevuti in comune. E noi siamo andati dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, che apre al dialogo. Non siamo determinati a dire se è fatto così e così resta. Troviamo le soluzioni. Però non posso nemmeno pensare che Padova diventi il parcheggio che era prima. Non posso pensare che Piazza Capitanato di fronte al Duomo e tutte le piazze ritornano parcheggi. Questa cosa non può più ritornare. Parlerò con loro, troveremo le soluzioni. Ricordo che c'è anche un problema di inquinamento. Se adesso litighiamo per questo motivo, tra due mesi litighiamo perché c'è il PM10. Per cui dobbiamo fare un sforzo comune, pensare tutti quanti in termini positivi per Padova.